Ehi la ciurma! Io sono Mazetess e bentrovati di nuovo qui su Sid Meier Pirates Ho fatto una bruttissima scoperta, nel senso che appena ho chiuso la registrazione PUM! È crashato il gioco, quindi ci ritroviamo allo stesso identico punto di prima Ma... Niente, vorrà dire che almeno abbiamo la... Forse è meglio non attaccarlo, Street Bonnet Ehm, almeno non ora Niente, almeno abbiamo di nuovo la nave quella veloce perché con l'altra era davvero uno strazio unico E adesso vediamo se riusciamo a rompere un po' le scatole a qualche d'uno che ne ha bisogno, insomma Ehi la 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 ci sono dei belli inglesi che andiamo a sfondare proprio ora Un mercantile, quindi anche pochi cannoni e pochi uomini di difesa Mi piace questa Io andrei subito con le palle a mitraglia in modo da... Rovinare almeno possibile la nave E mancarla in pieno Perfetto, andiamoci addosso adesso... Si stanno arrendendo, forse si Si, si arrendono Perfetto Benvenuti a bordo ragazzi, visto che non è tanto abbiamo pochissimi soldi anche del cibo Ci può essere comodo Ma... Nulla di che E... E' buono, vediamo... Uh, questa è un contrabandiere inglese, si Pochi uomini, pochi cannoni Diciamo che potrebbe essere una buona idea Sì, ma magari non mancateli Visto che sono più veloci di noi Niente, non li abbiamo beccati Adesso ci fregheranno abbastanza Vediamo se... Ho imparato la lezione della scorsa Questa volta Sembra per ora di sì Sì, infatti riusciamo ad avere facilmente la meglio su questo caro ragazzo E lo spediamo in mare Prendiamo anche una nave abbastanza veloce Che mi piace Io direi che... Uh, Raimondo si sta dirigendo Santiago Ah, ok, ma è quello che sapevamo Sì, benvenuti Io direi che... A parte prendere tutto Uh, delle spezie, non male Questa la tengo E tra l'altro anche le palle a catena Quindi me la tengo E' abbastanza mossa quella bandiera Forse non mi accoglieranno Con grandi onori Uh, ci sono contrari Se proviamo a entrare di nascosto la cittadina Se attacchiamo la cittadina Proviamo a attaccare la cittadina Ma sì, dai Uh È uno abbastanza tosto Si muove in fretta Soprattutto con quello dritto Carica e attacca No, qua ho sbagliato io Mio errore Niente, ho sbagliato Con questo l'unica cosa è contraattaccare Perché è più veloce di noi a difendere Quindi... Oh sì Ok, abbiamo vinto noi Abbiamo vinto noi Perché loro non avevano più uomini Quindi abbiamo saccheggiato Vabbè, 400 Facciamo un olandese Sì, dai Perfetto Sì Adesso gli olandesi saranno stracontenti con noi Colonnello 150 acri Alla prossima Yeah Mi piace questo Abbiamo conquistato una città Benvenuti a bordo Sì Mi piace Vediamo se questo è un pezzo di mappa Un rezzo di segnalazione Ah, ma abbiamo pochi soldi Adesso andiamo a vendere un po' di roba Viaggia a bordo Brigantino Pigoletta Pirata Revenge Ok Ci stanno dando un sacco di informazioni sui pirati Ma adesso non mi interessa Si nasconde sul retro Sì Deve rispondermi Abbiamo incontrato anche lui Adesso vediamo se per caso Riusciamo a fregarlo E a prenderci una buona E ricca ricompensa Così possiamo anche Comprare Quel raggio di segnalazione Che potrebbe esserci Parecchio utile No, ho sbagliato Confondo sempre quello in alto Con quello in basso Ok, questo è a posto Ok, questo era alto Quindi devo chinarmi Questo era dritto E... Perfetto! Fregato! Adesso vediamo che cosa mi... Offre Siete meritato il premio Forse vi regalo Questa era le spade bilanciate Potreste chiudere Uh, le spade bilanciate Potrebbero esserci utile Però... No Dovete sottostare al processo Adesso ci avranno dato i soldi Quindi possiamo Ma... Ma io volevo parlare con il tizio Ma vaffan brodo Vabbè, commerciamo con il mercante Allora abbiamo Delle spezie Che però qua vendiamo pochissimo No, vendiamo i cannoni però Venti cannoni Sì Cibo Abbiamo poco cibo Vendiamo Una nave La nave 3 Vendi Qua le amache triple Ce l'ho già Questa è uno spettacolo Mettiamo le amache triple qua Sì Allora ripariamo E potenziamo con le amache triple Perché quella potrebbe esserci utile In seguito Per... Ehm Se per caso Dovesse essere distrutta La nostra nave principale Insomma Adesso Vediamo un attimo Cosa è controllo dello status Vabbè Ok Tutte queste cose qua I dieci pirati Vediamo Noi siamo ottavi Per ora Come tesoro Siamo a 30.000 Come navi 27 Però ce n'è 211 LOL Però abbiamo una cittadina saccheggiata 10 Promozioni 2 tesori 8 oggetti rari Siamo in vantaggio su quello Allora a questo punto Salpiamo e Hanno catturato quelle Quindi vediamo se per caso Mi da una promozione O un qualcosa Ah no niente Niente Vabbè Abbiamo fregato quei tizi là E Buon per noi Adesso andiamo a vedere Dalle parti di Ehm Nassau Che c'era la tizia con cui abbiamo fatto colpo No Perché siamo abbastanza scarsi A ballare Soprattutto con il cambiamento Della Difficoltà Ma vediamo se No ci stiamo indirizzando A Jamestown C'è qua sotto Vediamo se è piccola E possiamo prenderla Jamestown Ah no Prima di parlare con il sindaco Magari ci da una promozione Anche Ah vuole andare a Grand Bahama Ehm Potrei anche attaccarlo Ehm Effettivamente Ma no potremmo anche Portarlo fin là Sì Gli oggetti sono strautili Quindi li prenderei sempre Là non c'è un cane di nessuno Questo mi dice Ehm La Bana Uh Può essere utile Qua cosa ci dice Raimondo Era diretto Verso Santiago Eh infatti Quello che Sapevamo anche noi Commerciare col mercante Vediamo quanto vanno le spezie A 12 Tutta la vita No non ha più soldi Sto pezzente Vabbè Gli compriamo un po' di cibo Guarda E ti vendiamo un altro po' di spezie Vabbè Ehm Maestro Dash Le navi sono da riparare No Sono tutte a posto Quindi io direi che Possiamo salpare E Ehm Attaccare il nuovo governatore No lasciamolo arrivare là Poi magari attacchiamo la città Una volta che è arrivato Però Ah quali sono gli olandesi Sono in guerra con gli inglesi Gli olandesi No ma è un Corsaro Quindi è meglio Andarcene In fretta No no Non attaccare Non attaccare Uh Vediamo il governatore Se ci dà qualcosa Visto che l'abbiamo appena Portato qua Insomma Mio caro Mezzetess La 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 Hai catturato uno sgruppo olandese Simili offese Non resteranno punite Ehm Proviamo a accettare Però è difficilissimo ballare Ve lo dico già È Stra Difficile Cioè è la cosa più assurda Del mondo Perché si muovono A una rapidità Ma proprio Devastante C'è fortuna Che ho gli stivaletti Quindi un po' mi salvo Però Altrimenti sarebbe un casino Ok Sinistra Destra Destra storto Destra storto Destra storto Destra storto Sinistra storto Sinistra storto Sinistra storto Sinistra storto Sinistra Destra Sinistra Destra Avanti Sinistra storto Sinistra storto Vedi questi pezzi qua Sono difficili Avanti Sinistra storto Sinistra storto Destra storto Destra storto Destra storto Destra storto Destra storto Uff Forse ce l'abbiamo fatta Sì Eh Farshington Eh vabbè Vediamo se nella taverna C'è qualcuno Che vuole unirsi a noi Uh ma siamo in 106 Ehm No Per ora siamo al completo Ragazzi Vediamo qua se c'è qualcuno Una collana di diamanti Quella che ci hanno fatto fregare Da quella tipa Da quella tipa Sì Sempre la stessa cosa Era diretto Santiago Ok Addio Eh Commerciale col mercante Vediamo se le spezie Sì le spezie vanno a parecchio Qua Quindi le vendiamo E Acquistiamo invece un po' di cibo Tipo 80 tonnellate di cibo Perfetto E direi che possiamo salpare Vediamo se cade in mano Degli olandesi Voglio solo vedere se cade in mano Degli olandesi No Se ne è andato via Ah perché è ricca Adesso è fiorente Perché abbiamo portato noi Il governatore Quindi abbiamo cambiato Tutte le cose LOL E Ma tanto non dovrebbe essere Sfavorito insomma Per noi Se divento inglese Vediamo cosa ci dicono qua Se ci attaccano o meno No No Tranquillo Grand Bahama Perfetto Così mi faccio anche Dei Soldi facili Con Con questi qua Stanno trasportando La canna da zucchero Ma Grand Bahama È la sua Perché ha fatto Tutti sti giri strani Ah perché sta sfruttando Il vento Probabilmente Sai Attacchiamo Gli spagnoli Poi direi che Possiamo anche Chiudere il video Diciamo Equipaggio 64 Ma se noi riusciamo A rovinare Abbastanza la nave L'equipaggio Si arrenderà No andiamo con le palle A mitraglia Direi che conviene Abbordarli Ora come ora In modo da Evitare di sfasciarci La nave del tutto Visto che No Questo è davvero Speedy Gonzales Vediamo se Ce la si fa No Io mi confondo Sempre quello Prendiamo un po' di vantaggio Magari Ok 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 Dai Ok Stiamo vincendo I nostri pirati Per fortuna Anche perchè Noi siamo Abbastanza lenti Con questo Ok Perfetto Yeah Abbiamo rispondito Anche dell'equipaggio Vediamo se Dell'equipaggio Loro si unisce Può far rispettare La disciplina In mare Perfetto Anche parecchi soldi 688 E Cibo E cannoni Bueno Sarebbero 14 uomini Nel nostro L'equipaggio Di 47 Direi che L'affondiamo Per ora Perchè Però i cannoni La teniamo Andiamo a vendere Poi qualcosa A Grand Bahama Visto che siamo Diretti là Dai Ce la si fa Insomma Dai Dai Contrabandiere inglese Dai Dai Sta progredendo Come non so che cosa Parla col governatore Visto che è arrivata Tutta sta roba qua Sì Maggiore 50 acri Che piacere Rivedervi Sì Ma Niente Niente Non ho regali per te Scioccarella Visitiamo la taverna Perchè sennò ci spendiamo Un sacco di soldi Di scherma da seta Ma no Non ho mai abbastanza soldi Vaffan brodo Sciocco uomo Benvenuti a bordo Sì dai Un centinaio di uomini Mi piace Nave di steedbonnet Perfetto Non ce ne frega Un kaiser E E Ah Andava verso Cartagena Adesso Al contrario E Vabbè Dovremmo andare Poi cercarlo Commerciare col mercante Vediamo cosa possiamo vendergli Dei cannoni A due Ma no Non vediamo niente Vendiamo una nave Magari Io venderei Lo slup Slup O slup da guerra Questo è più Potienza Non mi piace più Lo slup da guerra Probabilmente Uh palle incatenate Sì Metterei le palle incatenate Ripariamo questa Assolutamente Questa non è danneggiata Questa sì Questa anche E E E Venderei questo Lo slup Sì 3200 3200 E E E Detto questo Ragazzi Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio Per la visione Salvo già adesso Perché altrimenti Rischio di perdere Anche questa partita Sullo spazio vuoto Perfetto Partita salvata Vediamo tra l'altro Che punto Siamo con i Punti fama 23 Yeah Ciao a tutti ragazzi Ah Iscrivetevi al canale Ora Siamo con i